la partita è già andate già sotto il post il primo cerchione va sul pallino bello bello primo salto tra due secondi ero arfino ah ci sono altre bombi per attivare bombo addio amici outa maledetto lo sapevo lo sapevo ma ce l'avevo io cazzo perché me l'hai toccato tocca la prossima prossima pota pronta sul verde non tocchi l'altra ok tocca tutti c'è la combo anche qua si hai detto fa la combo tra 6 secondi ce l'ho io eh ce l'ho io guarda guarda che me l'hai toccato non ti ho toccato amico mio ok il prossimo prossimo salto va sulla luna noi tutti sul viola sul viola tutti smi vai sulla luna tutti sul viola roar dock urla d'andrak ok per fare il centro per fare il centro schivare è importante schivare difensivo di personale urla luca solo schivare eh ok prossimo poto sul viola prendito tu stock tutti darkness nico appena siamo sotto vai ok combo ti chiedo la parte sei bollato no vai 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 pronti la bozza va sul teschio e noi andiamo tutti sul pallino 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 ok vieni a cappare via urla radavan attivare le difensibili morti gd sai zentini chiedi fino all'ill oppure cvcd non so se le aspettite stai uno customer legge là che 6 save müs 上 o sos io Sok Darkness Tanta Sok piccolini Ultimo sforzo Ok, prossimo pozzo sulla stella Sof tutti Gezzo link Bombo Ma chi è? Farca Sto io Sto accartocciando la terza No, sono già due accartocciando la terza Sto morto io Ho fatto pure shadow me Bastardo Grazie 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 Grazie